ero solo a casa ero sul mio letto con il cellulare in mano a controllare le notifiche di facebook ad un tratto tre battiti provenienti da qualche parte nella mia stanza rupperò il silenzio i vicini sì sono sicuramente loro altri battiti come se qualcuno volesse attirare la mia attenzione provenivano dall'interno del mio armadio un altro colpo sì è proprio da lì che venivano ero davvero spaventato ma decisi comunque di alzarmi per controllare andai verso quell'armadio e rimasi fermo lì davanti per un po aspettando di sentire qualche altro rumore ora sì che avevo paura ma presi coraggio e apri velocemente l'anca non c'era nulla che strano poi qualcosa mi afferro le caviglie i battiti non provenivano dall'interno ma da sotto l'armadio grazie a tutti Grazie a tutti.